Su questo palco abitiamo un sacco di ospiti, ma questi due che invitiamo, che abbiamo portato qui adesso, sono due persone che aspettavamo da tempo. Sono meravigliosi, sono cresciuto. Faccio questo mestiere anche grazie a loro. Noi diciamoci la verità, un pochettino, siamo simili a parte per... A parte un po' qualche chilo, però siamo simili. Sono due grandi siciliani, loro sono... Totti e Totino! Vedete, voi fate una vita fortunata, voi siete fortunati. Quanto siete disgraziati, fate una vita fortunata perché voi la sera ritornate a casa, nelle vostre case, nelle vostre capanne, chiaramente voi. Noi facciamo una vita disordinatissima. Una sera ci addormentiamo a Boston, noi ci svegliamo a Parigi. La sera dopo ci addormentiamo a New York e poi ci svegliamo a Vienna. Oppure una sera ci addormentiamo a Madrid e ci svegliamo ad Atene. Certa volta ci addormentiamo nella mia macchina e non lo spieghiamo nella sua. Tutto questo perché? Perché c'è un mestiere... Perché siamo partiti da qui... E carri sta... Siamo partiti da qui e ormai il mondo ce l'abbiamo nelle mani. Tutto. Un mondo che mai... Allora, vi dico solo una cosa, questo palcoscenico ci ha visto nascere? Sì. Ed è coltivato a pomerone. Ma capire qua? C'è un'attività. Il nostro spettacolo lo aprono 100 ballerini maschi e 100 ballerini femmine. E per non farci mancare niente 100 froi. Uno spettacolo... Guardate, abbiamo debuttato nel mese di gennaio 2016 con il nuovo... Gennaio 2016, no? Abbiamo debuttato nel gennaio 2016... Da dove siamo partiti noi? Dalla Thailandia. 18 giorni in Thailandia. Gennaio 2016, febbraio Indonesia. Marzo Russia. Aprile Australia. Maggio abbiamo fatto l'India. E a giugno abbiamo cominciato a fare le Americhe. Sto parlando. Luglio abbiamo fatto l'Africa. Sto parlando. Ma voi la metti in un uomo. Sto parlando. E me la dici dopo, non è rispetto... Ma perché è urgente. Scusate un attimo. Ma in tutti questi paesi dove siamo stati... C'ero pure io. Per fuori voglio un applauso per questo sito del canale. Questo è il vero attore. E' lui! Bravo! Lui si che conosce la butade. Ditto al suo, quando dici sto coso accaduto. La devi finire. La devi finire. Viaggiate. Per favore, per favore, per favore. Che voi non conoscete il nostro lavoro. Ma noi sappiamo che una sera sì e una sera no. Siamo in giro per tutto il mondo. Voi che ne sapete... Allora vi posso dire una cosa importante. Il nostro lavoro è bello, sapete perché? Perché? Perché noi con il nostro lavoro viaggiamo. E viaggiate pure voi. Viaggiavo! Andate, girate il mondo e ci dite com'era! No, noi lo sappiamo. Se il signor Renzi vi ha lasciato le ultime 30 euro... Riunite all'altro tanto e fai tete. Viaggiate! Viaggiare è importante. Perché viaggiare allarga la mente. Noi abbiamo visto Cristiano con teste tante! Però viaggiavo, facevano impressione! Che c'è già con teste tante? Mi dici che si allarga la mente. Ma la mente si allarga di ninja! Sì, ma se non si allarga di fuori ce ne esce lo naso! Noi abbiamo visto posti nel mondo dove abbiamo fatto spettacolo che voi forse non ci andiate mai! Ve ne dico uno! Ve ne dico uno! Oddio! Ma che cazzo ci sa dargli! Ma adesso non ha viaggiato mai! Siamo stati nel Minnesota, nella zona del Minneapolis, nella città di Minneapolis. Io ho tutti questi milloni qui, però magari perché io sono più basso. E vi lascio dicendovi solo il paese più importante che abbiamo visto. Qual è stato il paese più importante che abbiamo visto? Dovete andarci! Andateci! Il cazzà chissà! Ragazzi! Ragazzi andateci! Va ricreati! Sono il nostro paese bellissimo per avere un cuore! Scusa, perché ragazze? Perché non ci vuole noi con i ragazzi? No, devono essere così per andare al cazzà chissà! C'è! Il cazzà chissà è un paese gemellato! Ah, è vero! Perché ora si usano questi gemellati! Ma scusate, il cazzà chissà con che cosa è gemellato? Con il pachistà! Vi giuro, vero, vero! Vi giuro! Il cazzà chissà, appena vede il pachistà non capisce chi è niente! Mi accende una cosa a destra tutto... Ma chi sta dicendo? Ma no, per... Totti, non è possibile! Ma che dico? No! Il cazzà chissà è qua sopra! E il pachistà è nella sopra! E' più importanza! Quando vuole ci arriva! Ma perché fa saluola? Esatto, esatto! E appena il cazzà chissà ne vede il pachistà entra nella galleria perché questo paese comincia con una galleria e c'è un tasennecci che non è vero! Cioè, quale paese comincia con la galleria? Il pachistà! Il pachistà comincia con una galleria? Il cazzà chissà ne c'entra di dentro! C'entra di dentro? Tipo invasione? No, tasse, è niente, tasse! C'è come una galleria, tipo il peloponneso? No, il peloponneso è di sopra! Anche se ora il peloponneso non ci usa più! Ci volevano, squaratti! Viaggiate, viaggiate!